Oggi volevo fare questo video come promesso su queste nuove ventose che sono appena arrivate. Allora ve le faccio vedere, sono queste qua, io fino adesso ho sempre utilizzato queste ventose della Wurt, quindi ventose con una curvatura e con dei taglietti o con delle increspature a seconda di come volete vederle, che servono ad aumentare la superficie di aggrappaggio sulla colla. Quindi quelle della Wurt sono fatte così. Vanno benissimo, le ho utilizzate per anni. Vari diametri, questo è il diametro che utilizzo, che ho utilizzato e utilizzo di più. Diametro da 27, quindi non so se si vede, comunque, diametro da 27 mm. Eccoci qua. diametro da 27 mm. Sono arrivate altre ventose con vari diametri, adesso ve li vado a indicare. Queste ventose, a differenza della Wurt, hanno una superficie apparentemente piatta. E adesso vi spiego il perché. Quindi, Wurt e ventose appena arrivate. Queste sono state progettate in maniera, secondo me, molto intelligente, in questo senso. la superficie zigrinata va ad aumentare quella che è la capacità aggrappante della colla, più che la capacità, la superficie di aggrappaggio della colla. Quindi quello che sarebbe un piano di attacco normale della colla, qua diventa molto più ampio. Cioè la superficie su cui la colla grappa diventa molto più ampia con queste zigrinature. Inoltre, questa ventosa non è bombata, a differenza della Wurt, e se però si guarda bene in controluce, non è nemmeno, la superficie zigrinata, non è nemmeno perfettamente piatta. ricorda, cioè ripercorre un po' quello che è la buccia, la bugnatura della lamiera, o meglio, della verniciatura. Quindi ricorda la buccia della verniciatura. Quindi non solo non è piatta, ma ha della zigrinatura che aumenta la superficie aggrappante, ma non è nemmeno perfettamente piana. Ha delle piccole ondulazioni, qua non so se si vede a video, di profilo si vedrebbe. Ha delle piccole ondulazioni che aumentano ulteriormente la superficie di aggrappaggio della ventosa con la colla. Diametri. Allora, sono arrivati diversi diametri. Questo è il più piccolo, quindi, fatta così, sempre con la superficie zigrinata, leggermente più grande. Vedete, qua si vede bene su questa ventosa che sembra piana la superficie, in realtà non è piana. Questa aumenta la capacità di tiraggio. Essendoci più contatto c'è più colla aggrappata e quindi la colla ha un tiraggio superiore. Questa. Poi la successiva, quella che vi ho fatto vedere. Poi quest'altro diametro, quindi quattro rotonde. Se ve le volete fare, adesso vi dico come potete anche realizzarvele. E poi questa qui, ancora più ampia. Quella che si utilizza di più, se la volete acquistare, è questa. diametro. Vediamo. Sì, 22, diametro 21, 22. Quindi questa è la ventosa che si utilizza di più. Quindi 5 rotonde, vari diametri. Adesso vi dico quanto sono. Diametro da 10, da 15, da 22, da 27, e questa grande da 32. Queste sono ventose stampate in materiale plastico a iniezione. Potete volendo realizzarvele anche voi un attimo solo, ripeto, e vi dico come. Questa invece è una ventosa quadrata, quadrata rettangolare. Queste invece sono quelle quadrate. Questa rettangolare ha anche qui la superficie zigrinata. e è progettata diversamente da Vurto e che invece, al posto di avere la zigrinatura, ha tanti taglietti superficiali. Quindi tante lamelle superficiali, anche quelle della Vurto, per aumentare la superficie aggrappante. Poi sono arrivate, non zigrinate, queste due qua. Queste servono per gli angoli delle vetture. Ad esempio, il cofano ha delle nervature. Se si crea un bollo sulla nervatura, si possono utilizzare queste ventose. Il consiglio è, prima di utilizzare qualsiasi ventosa, di utilizzare un prodotto sgrassante perché ci potrebbe essere dell'olio di lavorazione. Quindi non è necessario perché dopo qualche tiraggio con la colla si sgrassano da sole. Il consiglio comunque è quello di sgrassare la superficie delle ventose per aumentare il potere aggrappante. Se trovate in commercio delle ventose simili, cioè con questa superficie liscia e volete avere il potere aggrappante, potete utilizzare carta abrasiva da 80, quindi seppiare leggermente la superficie. Con una superficie ovviamente non liscia ma zigrinata, il potere aggrappante aumenterà automaticamente. Quindi in molti mi dite, noi compriamo delle ventose su internet insieme all'estrattore, le compriamo poco, provenienza cinese, non aggrappano. Perché olio di lavorazione e provate a seppiare la superficie con della carta abrasiva, in questo modo il potere aggrappante aumenterà. Poi ci sono anche altre istruzioni da seguire. Se volete in questo caso consulenze sull'utilizzo corretto delle ventose sembrano facili da utilizzare, in realtà a mio avviso sono più difficili, in particolar modo nella rifinitura finale, da utilizzare rispetto alle leve. E poi sono arrivate anche queste due ventose, simili a quelle rotonde, ma quadrate. E non perfettamente piane. Vedete come sono fatte una così e una più piccola. Quindi ventose, ottime. Provate a cercarle online e a utilizzarle. Allora, vi dicevo, queste sono stampate in iniezione. Se volete realizzarle, potete prendere una barra di materiale plastico. Qua ovviamente dovete provare con i vari materiali plastici. Potreste iniziare, ad esempio, con il nylon. Questa è un'idea. Però le prove dovete farle voi. Qua il polimero che è stato utilizzato, ovviamente, lo conosce la casa produttrice. Partite da alcuni tondini, quindi alcune barre tonde in materiale plastico, e le potete lavorare al tornio. Quindi le lavorate al tornio fino a ottenere fino a ottenere questa forma. Quindi lavorazione al tornio facile da realizzare. Le ventose di vario diametro, quindi, potete costruirvene anche per conto vostro. Anche questo scalino è facile da realizzare al tornio. Realizzate lo scalino e poi andate a seppiare con della carta vetro. Se avete del materiale da testare oppure se realizzate delle ventose e volete farmele provare mandate una mail all'indirizzo indicato oppure contattatemi nei commenti. Se invece volete delle istruzioni, dei consigli su come utilizzare la ventosa molti mi chiedete che colla, ad esempio, devo usare, che temperatura deve avere la colla, che pistola per colla a caldo mi conviene utilizzare. Ci sono varie marche, ripeto, per iniziare, ho già detto nei video precedenti, anche pistole economiche. Da 15 euro vanno più che bene. Devono avere una sola caratteristica. Quindi contattatemi per sapere come utilizzare correttamente le ventose, la colla a caldo, come posizionare la lampada e in fase di edit un corso sull'utilizzo delle ventose, quindi un mini corso adatto sia a principianti però anche a carrozzieri che magari non riescono a rifinire il bollo e attivo il corso in fase di editazione e sarà un corso online. Costa poco, ma è un corso, a mio avviso, valido per l'utilizzo corretto delle ventose. Condividete, se video di questo tipo vi interessano fatemelo sapere, se avete delle attrezzature da testare contattatemi, condividete il video e ci vediamo nei prossimi video.